Occorreranno più di 100 milioni di euro alla regione siciliana per ripianare i debiti dei consorsi di bonifica. E' questo uno dei passaggi della riforma firmata da Antonello Cracolici, assessore regionale all'agricoltura, già approvata dall'Aggiunta regionale di governo. Lo scoglio parlamentare sarà difficile, ma in avvicinamento alle prossime elezioni nulla è impossibile. Cracolici è convinto che la programmata riunificazione degli 11 consorsi in due grandi enti, Sicilia orientale e Sicilia occidentale, potrà risolvere molti dei problemi, soprattutto sull'impiego delle risorse umane a oltre 2.000 persone tra contratti stagionali a tempo indeterminato. Dopo anni in cui la politica ha alimentato con la clientela a questi organismi, adesso si scopre che bisogna cambiare e che addirittura c'è chi non fa nemmeno il proprio dovere. Bisogna cambiare sì, anche perché per il personale dei consorsi si spendono oltre 60 milioni di euro l'anno, soldi non certo coerenti con la reale organizzazione dei carichi di lavoro. E così Cracolici vuole stanare tutti, dai dipendenti fannulloni ai furti d'acqua. Per farlo si è affidato a Franco Greco, supercommissario di tutti gli 11 consorsi siciliani, quelli che si ridurranno da appena un paio e in prospettiva scatteranno perfino i controlli dall'alto attraverso le aerofotogrammetrie dei terreni, soprattutto per individuare i furbetti dell'acqua. Pare infatti che ci sia un'evasione impressionante dei ruoli, con un numero di produttori agricoli che pagano appena la quota fissa calcolata su quanto dichiarato, ma che poi in realtà irrigano superfici ben più ampie. In tutto questo però si spera non ci si dimentichi dell'anello debole di questa catena, che sono le migliaia di produttori agricoli che da anni si disperano per un servizio di cui non riescono regolarmente ad usufruire, proprio allo scopo di recuperare le perdite accumulate dai consorsi di bonifica. Infatti i canoni irrigui sono via via schizzati verso cifre talmente sorbitanti che, come è noto, sono sempre di più i contadini che preferiscono rinunciare alla produzione. Ma stando agli intendimenti questa riforma dovrebbe chiudere la fase dei commissariamenti che in anni di gestione hanno reso i produttori agricoli sempre più lontani dai consorsi che bussavano alla loro porta solo per il pagamento. Una questione che vede ancora perplessa l'organizzazione di categoria che da anni lamentano rincari assurdi e trattamenti non adeguati nei confronti degli agricoltori vessati da bollette sempre più alte.